e bello a tutti ragazzi qua e nicolas che vi parla con la porsche comunque aspetta ragazzi guardate questa carta non la dovevo la dovevo mettere tra uno di queste guarda perché a scuola mia io una volta l'ho portata e praticamente guardate si è stradistrutta perché si era aperta la bottiglia ragazzi mo scelgo altre 10 perché ragazzi adesso alla memoria limitata il mio telefono e c'ho solo 28 minuti e 4 secondi quindi ragazzi mi dovrei prendere la scheda quella da 8 gb o altre gb per continuare a fare video fin quando non me la posso prendere se mi stopperò un momento che non la riesco a prendere praticamente ragazzi per questo però ragazzi supplicherò mia mamma mio padre di prendermela perché se non me la prendo non posso continuare a fare video su youtube ragazzi comunque mi riprendo 10 carte ecco sepoltura prematura prematura si ragazzi ragazzi una carta magia rigido minaccioso catena demoni bella monica comunque seguite luket05 è il mio migliore amico che praticamente abita vicino a mi ragazzi luket05 è bravo ma pure mi ha trovato due leggendari senza scioppare colpo con catena ecco qua la carta di giulia artista amico serpente frusta ragazzi ragazzi riuscita pure questa aspetta ragazzi aspetta ragazzi abbiamo tutti i mixis questi sono questi gli altri sono tutti ragazzi ho dovuto scappare perché si era fatto troppo casino artista amico confronto io sono comando artista amico ragionando il favoloso c'è due l una cosa di questa e l'ultima sembra l'evocatrice ragazzi sto incominciando a fare i video più lunghi quindi adesso mi cauterò sui video di 40-50 secondi ragazzi perché se no faccio tutti i video ora e praticamente finisco la memoria non posso fare più video ragazzi di amico questo oggi è tutto con numero 7 e zamaisteramolla noi ci vediamo al prossimo video mettete like scrivetevi e commentate per favore e seguite gamemover e lucret05 ciao ciao